Abbiamo cercato di fare una programmazione sulle tipologie di lavorazioni, per cui nei mesi caldi noi facciamo soprattutto lavorazioni interne. Nonostante questo abbiamo fatto delle programmazioni degli orari di lavoro dalle sei la mattina a mezzogiorno. Si inizia così a lavorare all'alba per poter sfruttare le ore più fresche della giornata, una scelta di un'imprenditrice a retina condivisa anche da numerose imprese come la sua che in questa torre d'estate hanno modificato gli orari di lavoro. Negli ultimi anni ci hanno messo a dura prova da questo punto di vista. Infatti noi come aziende avevamo, a parte le normative che ci sono, alle quali cerchiamo di attenerci e ci atteniamo, ma già da diversi anni abbiamo adeguato i nostri turni di lavoro a questa nuova situazione climatica. Abbiamo dotato i nostri cantieri anche di frigo, di posti di refrigerio e anche le baracche sono dotate di un piccolo apparecchio di condizionamento. La Regione Toscana intanto ha prorogato l'ordinanza che impone orari ridotti per le imprese che lavorano all'esterno, dai cantieri edili alle cave, dalla manutenzione stradale al comparto agricolo. L'ordinanza prevede sanzioni perché viola le prescrizioni e vieta il lavoro in condizioni di esposizione prolungata dalle 12.30 alle 16 ogni giorno fino al 31 agosto. C'è però bisogno anche di ammortizzatori sociali e contributi. Per raggiungere le otto ore per la busta paga dei nostri dipendenti siamo noi che poi interveniamo con l'integrazione salariale, paghiamo direttamente noi. Credo che sia stata predisposta la normativa relativa ai comportamenti corretti per le nuove situazioni, ma credo che non sia stata adeguata per adesso altrettanto un sostegno economico alle aziende. Penso di no. Ci sarebbe bisogno? Penso di sì. Credo di sì anche perché ricade tutto sulle nostre potenzialità, per cui chi ha, chi può fare o chi decide di fare e ha anche questa sensibilità, diciamo che tiene il proprio organico in una situazione di, diciamo, tra virgolette di privilegio. Ecco, insomma. Chi non ce la fa? Chi non ce la fa si deve adeguare, credo, oppure poi si trovano delle situazioni, insomma, di precariato, insomma, soprattutto nel nostro settore, diciamo che sono ancora purtroppo sono esistenti queste cose. Grazie. Grazie.